Gloria ama i suoi figli, ormai adulti, ma non è solo una madre e una nonna attenta, ama ballare nei club per single e tra un amante e l'altro non smette di credere all'amore. Proprio sulla pista da ballo incontra Arnold, recentemente divorziato, tra i due nasce una passione travolgente che gli fa riscoprire una felicità quasi dimenticata. La sua ex moglie e le figlie, ormai adulte, però hanno su di lui una presa nociva. Il suo cellulare squilla incessantemente e lui non sembra sapersi staccare dal passato. E il film Gloria Belli, che sarà proiettato al frontone cinema all'aperto di Perugia giovedì 1 agosto alle ore 21.30. Quando il mondo esploderà spero di andarmene ballando.